Corrado Dallo Studio 5 di Roma trasmettiamo a colori in diretta Domenica in Ma non mi posso vedere a colori, mi piacerebbe da... Eccomi, a col... Ma com'è a colori? Ma allora non è a colori? Ma com'è? È tutto verde, giallo, com'è? Sei pirato, Corrado Sono i pirati? Corrado Corrado